L'ha registrato oppure no ma mi si rispetta il nuovo computer Non so se era nell'altro video o in questo che poi ho perso la registrazione Però con la terza notte a me mi si bloccava Cioè spawnavo morto Spawnavo morto Spawnavo morto All'istante manca un secondo Quindi ho spento ho l'accesso ed era tutto un bug Ho acceso Terza notte Ho notato che Spring Bonnie non corre come Foxy ma va normalmente Per colpa di Spring Bonnie perché lo stavo osservando Sono morto da questa merda qui a forma di scoiattolo E io non specco Quindi se ne devo andare a farlo con lui Quando Spring Bonnie non ha corso mi sono dimenticato di dirvi Ho pensato che dato che non è Spring Bonnie che corre Perché fa anche la lucera come se fosse l'animatonix principale È lui che corre È l'unica O è lui o proprio non c'è nessuno che corre Oppure tipo c'è Golden Paula che corre E mi fa il culo Perché è solo questi qua che mi restano Tanto poi lo vedete perché in questa notte Spring Bonnie si alza Intanto teniamo ferma la battaglia Perché è l'unica soluzione Qua si dovrebbe essere il cane Appunto Allora A destra chiudi Uno Non voglio che ci sia nessuno A sinistra ok A destra Ok quindi A sinistra chiudo A destra apro Qua posso appire Qua posso chiudere Con quale ritardo Qua non c'è nessuno Qua non c'è nessuno Qua c'è solo uno Ok Ok non c'è ancora nessuno 91 Ho praticamente due ore da recuperare Un'ora e mezzo da recuperare Dami forza Ghandri che gacce che mi dai forza Ne ha mai più Perché te sei a destra giusto No Non è a destra Ah ok quindi da lì Se ne va via Poi ritorno subito Però Il coniglio Allora Sì il coniglio L'ho scoiato Lo è qua E dovrei avere il 40 300 Sono sopra Sono sopra dei 39 Stavo per lì Scusate ma Non mi fa paura Questo affare Chiude a destra Diletta Ma il problema è Non può Non riesco a vedere C'è 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 Solo così posso vedere Il problema è Se qua non c'è Vodè che è proprio qua Se qua non c'è Vodè che Cazzo è successo No tipo sto scendendo parecchio Devo aprire per forza quella di sinistra Devo aprire per forza anche quella di destra Ho capito ma se te non mi fa vedere che È lì Io come faccio a vedere Non cazzino questa notte Cazzino perché la batteria assone troppo velocemente Cioè se avete visto Se chiudo entrambe le porte Lì va a due Va a due a due Non va a una a uno Va anche veloce Devo forse aspettare Questo Questo Allora A regola lui è andato qua Ok So come si muovono So come si muovono Ed è un'ultima cosa Questa volta ha più del 40% di batteria Quanto Per la Spring Bonnie viene Io chiudo la porta sinistra Dopodiché Appena lui se ne va Chiudo la porta di destra Cioè a propos Allora aspettiamo lui Non chiude entrambe le porte Ottimo Ora si ande piano Il problema è Dove essere 20 Alla quinta notte Oh eccola 12 12 Devo chiude Cioè 10 Devo appena Ok Ok Cioè 10 Ok 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 suona ti prego suona ti prego fanculo fanculo figlio di puttana ah questa volta siamo pola ok noi ci vediamo al prossimo episodio di Fnac Fnap perché mi sono stu infatto dopo infatto ciao scorpioni